McLuis, Elnag e Mobilvetta, quali le novità principali per la prossima stagione 2018? Questa stagione le novità McLuis riguardano la gamma Glamis totalmente rivista sia negli esterni che negli interni e che rientra nella logica della possibilità di allestimento in versione Gold o Diamond come conosciamo già sulla gamma MC4 e Nevis. Per quanto riguarda Mobilvetta la più grossa novità è la nuova gamma K8 Tecno Design, un vero esperimento di design per il brand Mobilvetta e l'introduzione di un motorhome più giovanile dalla linea più snella, più lineare, più minimalista che è il K-Silver Motorhome. Invece per quanto riguarda Elnag? Per quanto riguarda Elnag l'introduzione di alcune piante sull'iloft particolarmente importanti per il mercato svedese dove Elnag sta crescendo molto bene, per il mercato italiano una versione vestita special edition sia per il loft che per il loft sulle piante 450 e 530. Piante sempre più a misura di famiglia? Piante sempre più a misura di famiglia esattamente, in particolar modo per quanto riguarda il Glamis con il Glamis 23 che eredita la pianta del tweed 22 che tutti conoscevamo e che per questa stagione esce fuori dall'offerta McLuis in quanto tweed. Come Glamis invece continua ad essere presente e sarà un best seller come sempre. Qual è la strategia vincente per questi brand così importanti per il settore del turismo all'aria aperta? Sicuramente il connotato che rende vincente i nostri brand è il fatto di essere europei nel gusto nelle scelte che vengono fatte dal punto di vista di allestimento. Non è solo più un mercato italiano ma un mercato europeo, un mercato globalizzato e basta pensare a solo McLuis che in tutta Europa trasversalmente riesce ad essere un brand vincente. Grazie!